L'UVENDO DE TRAMONDANA E L'USOLE Ogni giorno l'UVENDO DE TRAMONDANA E L'USOLE faggia discussione su chi dell'idui era lo più forte quando vede ria uno co addosso un mantello Allora decise che lo più forte sarebbe stato quello dell'idui che era capace di fargliere il mantello L'UVENDO per primo cominciò a cioffiare con tutta la forza che c'è ma più cioffiava e più quello si estrignea dentro al mantello finché alla fine l'UVENDO non si è detto per vinto L'USOLE da parte sua cominciò a splenne e subito l'Ocallo obbligò l'uomo alle assi del mantello C'è la tramontana dove te riconosce che l'USOLE era più forte d'essa Ti è piaciuta sta storiella? Vuoli che te la racconto un'altra volta? Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti